bene bene non so che cosa ha avuto sempre l'episodio 8 il programma mio di registrazione molto più probabilmente ma non so perché diciamo che l'episodio la registrazione della parte 3 è altrettanto corrotta come quella della parte 1 soltanto che anziché glitchà si lampeggerà lampeggerà per tutto il video io non la sopporto questa cosa immaginate editare tutto il video così mi dispiace soltanto per voi che lo vedete e scusatemi salve a tutti strammo di benvenuti in questo nuovo video io sono sempre questo e oggi siamo tornati in un nuovo bellissimo gameplay di eldaria dove continueremo l'episodio 8 di eldaria anuera e io vi ricordo che se la mia voce è troppo lenta mettete la doppia velocità di guardare sempre i weeaboo monthly favorites mi raccomando è importante perché do lì delle news che do soltanto una volta al mese o di seguirmi comunque su instagram barra facebook barra qualsiasi altra cosa perché a parte apportare altri contenuti ma poi do degli aggiornamenti più in live quindi seguitemi perché tutto è in descrizione state tranquilli e io per il resto direi di riprendere l'episodio quindi dobbiamo andare da purrire l'attività sta lentamente riprendendo il mercato e alla fine della pausa pranzo non sono così presto come pensavo le sentinelle aspettavano il loro rimpiazzi così possono andare a mangiare devono essere impazienti mi diresti al negozio di puriri becerale calcagno puriri come stai sarei felice di sapere che ho bisogno di un nuovo vestito non sembra felice di vedermi non mi ha nemmeno salutato forse non le è piaciuta molto la nostra cacchierata con lei pur al perché tipo di occasione se un altro abito da ballo dovrei tornare no bisogna qualcosa di più pratico farò la guardia nella foresta puriri annui non devo essere la prima a chiederle questo sei fortunata ancora un vestito che dovrebbe adattarsi a te la purreca ha cercato tra i vari abiti appesi a una rastrelliera che strano perché così ecco qua che bello ed economico prossimo cosa dal momento che non si venderà facilmente il tuo per 2260 mana puriri ha sempre avuto una definizione molto personale del termine economico in ogni caso non ho scelta non ho tempo per discutere va bene lo prendo perché è così lo prendo posso cambiare mi squisti dispiace a noi distrattamente raccontando i soldi che avevo dato perfetto sono pronta devo solo incontrare scegliamo nel cancello aspetta prima cambiamoci un attimo e forest o perfetto ok ok e ranger della foresta perfetto dovrebbe essere al completo stavolta e mettiamo anche la foresta così visto che halloween si ok nuova tenuta e ora possiamo andare nella foresta no mi dispiace ma quello non è possibile caroto solleva una manciata di bacche nere davanti al viso di metto anche se la mia conoscenza è limitata credo di riconoscere la bacca della terra bella donna hai un'idea di quanto siano pericolose queste bacche le riporta in cucina scusa caroto io non le avevo riconosciuti riconosciuti caroto sembra molto arrabbiato con me il giovane molto imbarazzato sei un membro della guardia anche la guardia dell'assenzio te l'ho già detto non sono nei nostri archivi avevo un dubbio controllato ma non hai fatto tutte le analisi diversi membri della guardia sono finiti in infermeria a casa tua io mi dispiace così tanto pensavo che la tua mancazza di professionalità poteva costarci cara se mi ascoltarsi ti denuncerei alla guardia faresti meglio a riprenderti ed essere più attento quando wanshu cerca di insegnarti delle cose quando ci prova non è neanche da tutti i giorni quando apri un libro ci hai messo tutti in pericolo io farò uno sforzo te lo prometto non dirlo wanshu ma io starne fuori è continuato per la mia strada il cattivo rapporto di metto con il suo capo della guardia potrebbe finire per metterci nei guai posso sapere che non abbia riconosciuto la bella donna ma in caso di dubbio avrebbe potuto chiedere a cori un ulteriore analisi se i disturbi del mana rilevano piante velenose il pericolo potrebbe essere immenso non tutti sanno riconoscere le bacche buone da quelle cattive se un compagno incontra uno o un bambino come se non avessimo abbastanza problemi ho continuato a camminare verso la grande porta cercando di concentrarmi su ciò che dovevo vedere dovevo fare sbagliato ciao sequi stai bene sei in buona forma ciao yamon scusa mi sono un po ritardo come il famiglio di yamon e che grazioso è un bufaletto con le ali sto per spiegare quando ho notato che il monchon accanto a lui io non siamo stati presentati e non come se un famiglio lo it si è molto timido ma iamon cerca di convincerlo a fare un po di esercizio mi sono detto stare di guardia è un'attività tranquilla solo consegui becero nella foresta sarà l'occasione per l'auti di imparare a socializzare l'auti guarda becero come una prensione sui occhi non li lasciano mai becero gli si avvicinò lentamente facendo le fuse arrasse curanti i sefano sono davvero in grado di mettere suoni molto diversi andiamo allora gli altri ci aspettano tu vai avanti yamon ti segui con l'auti dai l'auti non devi avere paura l'auti trotta accanto a yamon girando la testa a destra e a sinistra per guardare la pianura becero gli cammina accanto continuando a fare ogni sorta di versi amichevoli yamon e io yamon li guardiamo di lato sperando che inizino a giocare insieme eppure mentre ci muoviamo verso la foresta sembrano sempre più nervosi l'auti che sta nervosamente imprensando becero non so perché non me l'ha tradotto quello vabbè il sefano si avvicinò a me la sua andatura si fece meno allegra sto iniziando a sentire l'ansia venire anche su di me non so perché ma non ho molto voglia di andare avanti più ci avviciniamo al limite della foresta più mi sento come se stessi camminando verso il patibolo yamon senti anche tu una specie di tensione nell'aria non mi sento molto ma becero mi preoccupa e anche l'auti i passi del moncion si fanno sempre più piccoli sembra che stia rallentando i compagni sono incollati a noi hanno davvero paura di qualcosa un compagno corse fuori dalla foresta e ci passò davanti non ho mai visto questo compagno sembra qualcosa che lo ma sembra che qualcosa l'abbia terrorizzato non è un buon segno le dafalle notturne non dovrebbero uscire a quest'ora le dafalle notturne sono notturne dormono durante il giorno deve essere disturbato da qualcosa di insolito la coda di becere tra le loro gambe le loro orecchie sono tirate all'indietro l'auti tacque si guarda intorno ho messo una mano sulla maniglia di lucidator dobbiamo entrare siamo andati più in profondità nel bosco cercando di essere più silenziosi possibile i compagni sussultano ad ogni fruscia di foglia becerone trema yamon tiene aggressi aggressi a geris puntato davanti a sé e avanza furtivamente il disturbo mana che ho sentito quando siamo stati qui qualche giorno fa è ancora presente si aggiunge all'atmosfera pesante sono pronta a difendermi improvvisamente una figura emerse tra gli alberi ci rigidimmo ofelia la piccola ci è venuta incontro allegramente potresti pensare che i suoi piedi non tocchino il suolo perché i suoi passi sono così leggeri ofelia cosa stai facendo qui sei tu quella che spaventa i famiglie no il prescelto di oracolo non sono io a spaventarli sono quelli dell'altro mondo sono già in viaggio che cosa chi umano terra stanno venendo qui ofelia è già scomparsa tra gli alberi che diavolo potevo sentire che becero era preso da violenti ma perché lo traduce becerone vabbè era preso da violenti tremori il moncion di yamon iniziò a emettere strille da fine del mondo yamon cosa sta succedendo l'hai vista anche tu yamon non ha avuto il tempo di rispondermi due spari risuonarono nella foresta molto vicino a noi spari ma che stanno scherzando ho sentito il mio cuore crescere il terrore mi ha preso yamon dobbiamo andare dobbiamo andare subito la foresta ha cominciato a ruggire mi sembra di sentire il suono di un walkie talkie c'erano due sentinelle che avevano che abbiamo dovuto sollevare sai qui cosa sono questi rumori non conosco questo rumore sono nel panico sto perdendo l'equilibrio ci sono molte voci diverse sembrano provenire da ogni parte rimbalzano si tronchise degli alberi devono essere almeno 20 forse tutti armati yamon le sentinelle sono morte dobbiamo andare ora yamon vieni presto dobbiamo tornare in città corri yamon non fece altre domande si precipitò dietro di me i due famigli si sono precipitate a terra davanti a noi corremmo senza fiato attraverso la pianura non riesco a più sentire le mie gambe non riesco più a pensare il mio cervello è intorpidito dalla paura hanno pistole abbiamo raggiunto la grande porta non so se ci hanno seguito se ci stanno seguendo devo riprendermi dobbiamo fare un piano yamon non capisce non ho mai sentito di uno sparo prima controlla te stessa controlla se stessa respira non abbiamo tempo fai qualcosa yamon ascoltami siamo stati attaccati i terrestri ci stanno attaccando provo a trovare la guardia scintillante provo ad avvertire tutti radunatevi armatemi dobbiamo combattere vado a trovare vuon va deve essere nella sala del cristallo aiuto nella sala del cristallo aiuto ma perché andare a sparare così a caso cioè nella sala del consiglio avevo letto cristallo mi sono precipitata nella sala del consiglio è vuota dov'è non è il momento non è il momento di farsi prendere da panico trova gli altri pensa forse lenz saprà cosa fare forse sa dove si trova mi sono precipitata giù per le scale nella sala delle porte sono corsa verso la forgia e i segui viene ad aiutarmi a fare l'inventario no hai visto lenzio sai dov'è uon va nessuna idea sembra che tu abbia fretta pur alle se fossi intendere a nascondermi non lasciare la città senza aspettare una risposta mi sono precipitata fuori dalla forgia devo trovare qualcuno chiunque non c'è modo di suonare un allarme in città senza rallentare mi sono precipitata nel corridoio ho iniziato a bussare tutte le porte nessuno risponde ciao chiunque siamo attaccati vieni fuori vengono tutti fuori una porta si prende dei temi e mi voltai sai qui cosa sta succedendo sembri molto nervosa siamo stati attaccati gli umani sono nella foresta sono romati ma non lo dire civili sarei incoglionita aiuto la bmove non ha donato di vinteletto ai personaggi femminili protagoniste questo è un peccato forse dovresti informare papà non ha senso schiaffeggiarlo non è un tuo nemico non ha senso nemmeno urlare ha fatto un respiro profondo vuoi che trasmette il messaggio a sua sorella il capo della mia guardia ad eric che è notoriamente incapace di trasmettere un messaggio ma mi ha dato un'idea sono scappata vai a trovare yamon alla grande porta preparati a combattere finché guancho nel laboratorio di alchimia mi sono precipitata di nuovo attraverso la sala delle porte ho salito le scale quattro alla volta con un po di fortuna non ha chiuso la porta chiave fantastica la porta del laboratorio si aprì e sbatté contro il muro guancho hai visto tua sorella non è nella sala del consiglio devo sembrare davvero in preda al panico guancho non si è nemmeno arrabbiata con me è partita stamattina con gif non so esattamente dove siano andati cambio di programma ora di denti cari uomo siamo stati attaccati gli umani nella foresta sono armati hanno quelle armi di cui parlavi armi da fuoco ma perché tutti sono così calmi e non hanno un'espressione terrorizzata dovrebbero averla sì potrebbero essere una ventina almeno forse di più yamon dovrebbero nonare gli altri nei giardini guancho afferrò una borsa che riempi di fiale sai esattamente dove si trova tutto è veloce e precisa mi unirò a loro ho un piano voglio cercare evelyn e poi trova noi senza dire altro wancho obelzo fuori aiuto l'ho seguita di corso e aperto la porta dell'infermeria ma evelyn e gli umani sono nella foresta una ventina di loro sono armati l'elfo lasciò cadere il libro che stava leggendo ecco questa è una reazione hai avvertito gli altri wancho lenz wancho si yamon sta radunando gli altri nel giardini evelyn aprì un cassetto ed estrasse un lungo pugnale che infilò nella cintura puoi ancora correre avanti ti seguo questa è una reazione non ah ah ok perché vuol dire ok yamon non ha perso tempo sembra che tutti siano nei giardini ha trovato lenz chrome karen corey metto e persino caruto riuniti intorno a wancho tutti i tesi concentrati metto sembra particolarmente febbricitante comprende il rischio meglio di chiunque altro evelyn e io ci siamo uniti a loro wancho ha parlato a voce altra in assenza di mie sorelle nevra e con accordo di lenz e chrome sono responsabile delle operazioni ewe le ha da rick e caruto trova tutti i civili che puoi informali della situazione nessuno dovrebbe lasciare la città in nessun caso inoltre assicurati che anche i compagni non escano non è ancora chiaro esattamente cosa sia successo al warryfang che morso segui non abbiamo bisogno che i nostri famigli si rivolgano a noi sopra tutto il resto corey lehtan e yamon porta c'è anche lehtan non l'ho visto porta con te i guardiani e prepara le difese dei bastioni se gli umani si avventurano così lontano i muri dovranno trattenerli tutti e sei si dispersano un istante lehtan mi lancia un'occhiata dispiaciuta mentre si allontanava sento che voleva combattere con noi sento la sua preoccupazione avrebbe preferito potermi tenere d'occhio ora per quanto ci riguarda troveremo gli umani karen alzò la mano one two le diede la parola con un cenno del capo conosci il mio gusto per la violenza non metto affatto in dubbio la tua decisione ma non sarebbe meglio aspettarli qui dietro dentro dietro le mura il problema è che non sa possiamo essere sicuri che vengono da questa parte e beh ma ti vanno a balembio e non ho alcun desiderio di lasciarli vagare nella natura one two preso una mezza dozzina di fiale della sua cartella e ce le borse fortunatamente non dovremo affrontare le quattro bevi questo agitate leggermente le fiale l'anticipo potrebbe potrebbe esserci un piccolo deposito sul fondo possiamo almeno sapere cosa c'è dentro prima metto annusò sospettosamente la sua pozione fece una smorfia mi aspettavo che one two rispondesse con una risposta feroce ma lei non lo fece è troppo sopraffatto dal senso di urgenza che ci guida tutti questo è chiamato un diluente manico rende il mana meno denso meno viscoso ma nel viscoso cosa intendi con questo permette al mana che vive in noi di muoversi liberamente tra di noi beh lo sto spiegando velocemente la teoria un po più complicata di così la dinamica dei fluidi manici insomma ti rende invisibile tipo ma io non ho il tempo e tu non ho le capacità andiamo avanti una volta che avrei bevuto la pozione sentirei chiaramente la differenza l'idea è la seguente ci metteremo in una formazione a triangolo chrome e carne ne sarete da una parte lenzia mette o dall'altra se qui sta vicino a me saremo il punto di riferimento voi rimarrete tutti indietro nascosti per quanto possibile concentrandovi dovreste essere in grado di dirigere un flusso di mana verso di noi cercheremo di parlare con gli umani scopriranno cosa vogliono hanno sparato alle sentinelle non è più tempo per le discussioni ho aperto la bocca per protestare ma wanshu mi ha interrotto con un gesto anche se sono stili dobbiamo raccogliere quante più informazioni possibili su di loro dobbiamo sapere chi sono quanti sono cosa vogliono hai sentito solo degli spari non siamo sicuri che abbiano ucciso qualcuno forse stavano solo cercando di spaventare un compagno selvatico spero che tu abbia ragione ma non ci credo proprio che tu ma non ci credo davvero nemmeno io ma non li attaccheremo senza essere sicuri quindi proveremo a parlare con loro io e te ma se le cose dovessero andare male l'energia inviata dagli altri dovrebbe darci una marcia in più al minimo segno di aggressione scateniamo le ostilità senza fare domande ti darò il segnale prendendoti per mano aiuterà a far circolare il mana tra noi la paura mi attinaia il petto saremo all'altezza della sua sfida aiuto emozionatissima sono po' lo scudo di luce e degli angel fermare i proiettili vorrei davvero non dovermi mai fare questa domanda perché Wan Choo ha ragione ad essere così sicura di sé ho stappato la mia falala che odore capisco meglio la smorfia di Matthew pensavo che stesse esagerando va bene buttato tutto in una volta non ce la farò più ho trattenuto il respiro e ingoiato il contenuto della falala in un colpo solo gli altri mi hanno copiato a parte l'enzo e tutti sembravano disgustati Wan Choo non mentiva mi sentivo strana mi sento più leggera più vuota eppure il mio corpo mi sembra più pesante non possiamo sentire il mana che ci attraversa o che vive in noi eppure ho l'impressione di sentire qualcosa che mi sfugge qualcosa di intangibile come se rischiassi di svuotarmi della mia sostanza al minimo movimento è davvero molto particolare anche gli altri sembrano confusi non farti ingannare dai tuoi sentimenti non ci sono rischi teoricamente va bene mettiti in posizione dobbiamo andare mi sono unita al fenguan alla testa della nostra formazione e gli altri hanno formato due linee trovandomi accanto a Wan Choo mi rendo conto che non so se sia una forte combattente ha parlato di innescare ostilità ma che tipo di poteri ha? molto bene normalmente il flusso di mana dovrebbe fluire naturalmente verso di noi ma cerca di concentrarti su di noi potrebbe essere d'aiuto dopo alcun istante ho iniziato a sentire qualcosa non è molto diverso da come mi sento quando uso i miei poteri una specie di calore, tensione, energia come se stessi respirando più dell'aria tranne questa volta posso dire che non viene da me l'energia che viene da un'altra parte la sento penetrarmi, riempirmi mi sento acuta, vivo, è il mondo più colori non cancella la paura, ho fatto un respiro profondo, non abbiamo scelta su, su dai di qui a sto punto qui? no, suppongo di no, nel cerchio di funghi ma allora, vabbè mentre ci avvicinavamo al cerchio di funghi abbiamo rallentato mantenendo la guardia gli altri rimassero indietro Mettio e Lenze si rannicchiarono dietro un cespuglio Chrome e Karen si nascosero dietro un grosso ceppo muschioso Wenchui e abbiamo continuato ad avanzare tra gli alberi l'energia che scorre tra di noi sta aiutando ad alleviare un po' della mia paura sono terrorizzata, mi sono estremamente determinata sento il mano a culmolarsi in me, vuole solo essere liberato improvvisamente ho messo la mano sul braccio di Wenchui, ho sentito delle voci non stanno parlando ad alta voce, devono essere vicini Wenchui ha unnuito per farmi sapere che anche lei li ha sentiti fa un gesto, dobbiamo andare avanti man mano che ci avviciniamo riesco a vedere sempre più cifre ce ne sono una ventina dalla radura e sono ben armati ma che cazzo? Wenchui, questi oggetti che tengono in mano, se li puntano contro è per ucciderti a noi rigidamente, la sospettava ok andiamo, mani in aria e senza fare movimenti bruschi entrambi alziamo le mani in aria e andiamo in avanti uno degli uomini ci ha visto prima che entrassimo nella radura non sparare, non sparare, veniamo in pace siamo usciti dal sottobosco, anche gli uomini sono nervosi sono in uniforme, tutti hanno le stesse armi ma che cazzo? sono soldati, forse una specie di esercito privato, ma di cosa? tuttavia quando ci vedono sembrano a non rilassarsi uno di loro si avvicinò a noi con un'espressione esagerata spavalderia dal modo in cui lo guardano gli altri immagino che sia lui il responsabile è la SWAT, ma che cazzo? bene bene, dai un'occhiata a cosa sta uscendo dal bosco uno degli uomini ha fischiato mentre ci guardava dall'alto in basso ha dato una gomitata a uno dei suoi compagni ha delle belle curve quella a destra esattamente il mio tipo Wenchui, narcole, sopracciglia, benvenuta nel mio mondo sì, mi piace di più l'altro, è più il mio stile sto bollendo dentro, se usassimi potere in questo momento farò loro ingoiare le loro parole mi sento pronta ad attaccare quello che è venuto verso di noi non molle il fucile potrebbe sospettare una trappola siete perse ragazza, non è molto sicuro da queste parti ma sta scherzando gli altri sorrisero maliziosamente sarei felice di attaccarli adesso stavo per farti la stessa domanda siete tutti persi? la mano dell'uomo si strinse sull'essa della sua arma sai dove sei? qui? sei nelle terre di L? dimmi, questa potrebbe sembrarti una domanda strana ma voi ragazze sapete cosa fare? dite cose magiche non sono persi, sanno dove sono what the fuck? ho scambiato uno sguardo con Wenchui anche lei lo sa gli soldati si avvicinano minacciandoci con le armi il capo si rivolse all'uomo che ci fischiò tu porta con te il tuo amico e vai a fare una passeggiata con un po' di fortuna non sono venuta da sole sono rimasta inespressiva non possono sorprendere gli altri cosa stai facendo qui? cosa state cercando? sei carina ma sono io quello che fa le domande qui lo trovo in una situazione molto irrealistica perché per quanto facciano schifo gli umani se c'è un qualcosa di così inviano più che altro delle spie non delle persone così insomma cioè no, non le inviano sicuramente così è più probabile che inviano un ninja non mi hai risposto sei fare la magia o no? e tu una piccola palla di fuoco o qualcosa? capo, non hanno la coda o le corna gli altri sembravano più promettenti soprattutto quello con le orecchie a punta lo so ma non starebbero al gioco cosa vuoi che ti dica? sta parlando delle sentinelle le hanno uccise cosa ne facciamo di loro capo? sembrano pulcini normali ok ragazzi, ultima possibilità nessuna magia? è per questo che sei qui per catturare le fate l'uomo scosse la testa apparentemente deluso finirà male sentimi poteri pronti a manifestarsi riesco a sentire il mana che implora di essere usato i soldati consolidarono la presa sulle armi stanno sospettando il segnale del loro capo per abbatterci Wanchu ha voluto insistere aperto la bocca per parlare di nuovo ho sentito abbastanza abbiamo superato la fase del minimo segno di aggressione ho afferrato la mano di Wanchu chiamandola la luce degli angel la cuffla di luce si è dispiegata intorno a noi in un istante aiuto sento tutta la potenza di Karen come l'ans il mana di Mets aiuto sento la loro energia la sento provenire da loro sento la ferocia del lupo la sette del sangue del vampiro sento il fervore di Mets e la forza di Lanz come se fossero parte di me lo scudo risplende più luminoso che mai girando la testa ho notato che proveniva anche da Wanchu non condividiamo solo la nostra energia ma anche i nostri poteri con un grido del loro capo i soldati hanno aperto il fuoco che bello che bello ma perché non dico ma non sono capaci di fare magari l'immagine più piccola ma che si vede tutta e che non è deformata no non ne sono capaci vabbè i proiettili piovono sullo scudo ma non vacilla affatto il mana che sono stati finalmente rilasciati intorno a me a Wanchu in vortici blu aiuto una fiamma blu ghiacciata incendia la mano della Finguan fuoco di Lanz una fiamma simile si è accesa nella mia mano attraverso lo scudo posso vedere la paura negli occhi dei soldati forse non so se la mia rabbia provenga da Karen Matthew Wanchu non so se la mia paura è la mia o la somma di tutti noi sento solo il desiderio distruggente di sconfiggere i nostri nemici senza bisogno di consultarci la Finguan e io abbiamo scatenato il potere devastante del fuoco del drago una torrente di fiamme rotto dallo scudo ci dando una dozzina di uomini in un istante gli altri hanno avuto la prontezza di allontanarsi dallo scudo e mettersi al riparo continuano a sparare alla cieca alla cupola i proiettili si schiantano contro la ditta o rimbalzano via cioè una cosa che io non capisco mai dei film ma se vedi che non succede niente ma che cazzo stai continuando a usare i proiettili cioè è uno spreco mi guarda intorno nella radura so che Wanchu sta facendo lo stesso se uno di loro pensa di provare a cambiare posizione un movimento ha attirato la mia attenzione e ho mobilitato il potere del drago improvvisamente ho sentito un flusso di mano prosciugarsi lo scudo ha vacillato mi sono voltata verso Wanchu in preda al panico ho visto la mia paura nei suoi occhi in un istante sono svuotata di tutta l'energia Wanchu che cosa dobbiamo combattere una grave ostione ora rontolato Wanchu penso che mi abbiano sparato penso le mie gambe cedo non sto per cadere penso che morirò sono stata colpita non credo Wanchu ha gridato qualcosa forse il mio nome non riesco a sentire niente la foresta crollò e il terreno colpì la mia spalla Lance è apparso improvvisamente alla vista e si è avventato su un soldato la sua spada trafissa l'uomo perderò conoscenza questa volta sarà oh madre la sagoma di Lance si precipitò verso di me mi sentì sollevato dalla schiena tesoro penso che un proiettile non ti faccia niente dipende dove ti hanno preso aspetta hai detto sul fianco tesoro sul fianco te la cavi cioè sei stata pugnalata nella schiena gli alberi stanno passando penso che mi stia riportando da qualche parte la mia visione è sfocata ma riesco ancora a distinguere i suoi allinamenti direi qualsiasi cosa per vedere Nevra piuttosto che lui direi qualsiasi cosa per vedere la sua faccia un'ultima volta Nevro ho esalato il suo nome con un ultimo sospiro prima di sprofondare nel buio ehi sei qui non so perché sono sorpresa cosa sei venuta a salutarmi così è troppo presto per dire addio figlio dei tuoi mondi mi dispiace ma sento che ora è il momento perfetto in realtà hai torto ti aiuterò a non ti muovere Ophelia si avvicinò a me e mi tesse la sua mano sul mio viso che bella che bella mamma mia sono lacrima troppo emozionata mamma mia la bambina mi ha toccato la guancia più volte con il dito cioè lei ti sta ti sta facendo ehi ehi dai svegliati anche ero molto cioè ti sta soltanto dando fastidio ci sono molti che si affidano a te in questo mondo e nell'altro l'altro che può contare su di me sulla terra tutti si sono dimenticati svegliati non tutti hanno dimenticato devi svegliarti smetti è piacevole smetti vabbè non è che stai andando per svegliarmi mi sono guardata intorno Ophelia non c'è neanche nessun altro se per questo l'infermeria è deserta è vero ho provato a sedermi un dolore lancinante mi ha attraversato ho visto le stelle sono caduta di nuovo il mio stomaco fa un male terribile sembra che sia vero vorrei svegliarmi meno spesso in questo letto e più spesso nel mio sto tornando alla coscienza dovrei approfittare di questi pochi momenti di calma quando sarò completamente tornata in me stessa sarò sopraffatta dall'angoscia divertiti segui divertiti restano solo pochi istanti dopo di che ti renderai conto della verità e in tutto il suo orrore non tutti hanno dimenticato gli umani sono andati in guerra con Eldaria fine dell'episodio fine dell'episodio ma cosa allora allora intanto vediamo le illustrazioni facciamo ordine nei pensieri perché la situazione si sta incasinando in un modo che io trovo orribile ok questa è l'illustrazione qua continua qua si vede che c'hanno la manina che bella mi fa piacere proprio c'è c'ha la faccia da ma chi ti senti riferito alla guardia giustamente vi giuro non lo sopporto sta cosa che l'altra non si vede e questa è quella con Ofelia anche questa continua però non c'è niente di rilevante e niente è troppo carina anche perché la prima illustrazione con Ofelia c'ha una coda e allora per quanto riguarda il cosa? mettiamo questo per quanto riguarda l'attacco senso perché le cose sono che uno per andare ad attaccare Eldaria e organizzarsi e fare tutte queste cose cioè capire che c'è un mondo capire che c'è la magia in quel mondo capire che magari vuoi conquistarlo farti dei piani devi fare andate e ritorno devi fare delle spedizioni devi fare delle cose per le quali non hai il tempo o la cosa che ti organizzi così io non credo che quelli fossero un gruppo di amici che dicono oh oh c'è un cerchio di funghi ci andiamo armati magari succede qualcosa poi magari come dei pirla ci saltano non succede niente tutti armati così stile subotte che non succede niente ma seriamente una cosa del genere perlomeno ci deve essere un qualcosa che fanno avanti e indietro e qualcuno che ha fatto delle spedizioni anche perché questi di qua cioè una spedizione del genere è suicida è più che suicida se nella terra in questo momento si è preso un portale verso un altro mondo io non dico che ci andrebbe più che un soldato uno scienziato ma un po' come è stato iniziato per la NASA un po' come avevano iniziato per fare come si chiama per le spedizioni nello spazio prima fanno un sacco di esperimenti creano le compagnie le società e cose varie poi fanno dei test degli esperimenti delle cose delle spedizioni prima ci mandano un animale vedono se funziona poi ci mandano l'umano cioè la trovo molto surreale una cosa del genere e trovo molto surreale la naturalezza con la quale quelli parlano così molto spavaldemente ci sta che ci sia quello più difficile che ci sia quello più stronzo ok come nemico diciamo ma diciamo che qui non si regge in piedi questa aggressività inutile cioè è proprio inutile se tu vai in un mondo che non conosci soprattutto se ci vai in 20 persone sai che usano la magia dico le armi fino a un certo punto ti finiscono nei caricatori e poi cosa fai te li fili nel culo i fucili che cosa puoi fare quindi mi sembra anzi inutile poi magari sono io che penso che il dialogo magari avrebbe aiutato un pochino o un boom non lo so fatemi sapere che cosa ne pensate voi io sono molto contro e ariata su sui tipi mi hanno dato un po' il nervoso ecco e niente se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti